Anche i cittadini reatini prediligono i prodotti di risparmio postale. Secondo un calcolo complessivo, i risparmiatori del Lazio detengono una cifra pari a circa 18 miliardi di euro di buoni fruttiferi postali, prodotti di investimento emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e collocati da posti italiani in tutti gli uffici postali. E tutto questo dal 1924. In particolare nel reatino i risparmiatori sembrano prediligere prodotti con durata a medio-lungo termine rispetto a soluzioni di breve periodo. Tutti i buoni fruttiferi postali sono garantiti dallo Stato italiano e possono essere rimborsati in qualsiasi momento. Inoltre assicurano il rimborso del capitale investito e degli interessi maturati al di là delle condizioni di mercato.